Buongiorno a tutti ragazze, ragazze, ma anche insegnanti, educatori, genitori, nonni. Mi rivolgo a voi lettori appassionati che purtroppo, e credetemi mi dispiace molto. In questo momento, per motivi che conoscete bene, non posso incontrare di persona. C'erano molte presentazioni nelle scuole, nelle biblioteche, nelle librerie che ovviamente sono state sospese. E per questo ho deciso di progettare questo piccolo documentario puntate che vi racconta la storia in ritroscena, gli aneddoti, le curiosità relative al mio romanzo per sempre mai più, per raggiungervi anche nelle vostre case, per incontrarci virtualmente e non perdere la speranza, in attesa di poter tornare a vederci di persona, per rispondere alle vostre domande, per stringerci la mano e magari, se vi farà piacere, per scrivervi una dedica sulla prima pagina del vostro libro. Per me è importante rimanere in contatto anche in questo difficile momento, anche perché questo libro ha una dedica particolare. È dedicato a tutti quelli che ti tendono una mano quando stai per affogare. Allora, siete pronti per cominciare questo viaggio? Una grande salita dentro me Ma dai pedali vai scendere Cominciamo proprio dalla copertina. Come vedete, l'illustratore Lorenzo Donati Natalori ha rappresentato in questo bellissimo disegno proprio le caratteristiche fondamentali del romanzo. Vedete subito che c'è un ragazzo con un cappuccio in testa si chiama Marcus, è un tipo un po' scontroso dal carattere difficile, anche dal difficile percorso scolastico Ma si capisce subito che ha alcune passioni Allora, vedete sulla sua spalla c'è un insetto piuttosto inquietante, sicuramente un po' esagerato nelle dimensioni, perché lui è appassionato di insetti Poi in basso, vedete lì c'è una bicicletta perché lui è un grande amante delle bici da corsa, soprattutto di una bici che gli ha regalato suo nonno al quale lui era molto affezionato. E poi vedete che dalla spalla spunta una chitarra perché è uno strimpellatore di chitarra elettrica Vi ho incuriosito? Volete conoscere Marcus? E allora ascoltate qui Ragazze, tornate a sedervi. Non ho mai visto cimici mangiare una persona Ma fu Luigi, degno amico di Mauro, che intervenne Vero, prof, non mangiano nessuno, ma puzzano come carogne Lo sanno tutti che le cimici usano solo profumo francese Eau de gabinette Schiamazzi e risate a profusione Marcus venne definitivamente svegliato dal trambusto e questa volta il cappuccio della sua felpa non tornò ad appoggiarsi al banco Ci penso io, prof Ma Mauro, richiusa la porta alle sue spalle, si abbassò si tolse una scarpa da tennis e la portò sopra la testa brandendola come il martello di Thor Poi si mosse velocemente in direzione dell'insetto alieno che intanto era rimasto capovolto sul banco e sbattendo le ali cercava senza successo di rimettersi in posizione di volo Marcus prese immediatamente coscienza della situazione e si produsse in un vocalizzo con una tonalità degna di un tenore Nooooooo Frugò nella sua cartella e ne estrasse prontamente un barattolino di plastica trasparente Si rese conto di avere poco tempo Mauro era geometricamente più vicino all'obiettivo mentre lui, per arrivarci, avrebbe dovuto percorrere una diagonale zigzagando tra le cartelle, sedie, banchi e compagni Decise allora di seguire la via aerea Saltò di banco in banco calpestando quaderni e libri dei malcapitati colleghi Galileo apprezzò l'iniziativa e spostò il suo astuccio per non farlo inciampare Un ultimo balzo e Marcus atterò coi suoi anfibi neri vicino all'insetto conteso Anche Mauro intanto era arrivato lì con la mano tesa e la scarpa pronta a schiacciare il nemico Ma Marcus era deciso a non consentiglielo Pertanto lo spinse via facendolo rotolare a terra Aprì il barattolo con il coperchio forato per l'aria E vi spinse dentro con delicatezza la bestiolina spaesata Si affacciò alla finestra e finalmente la restituì al cielo Che, al termine di quel colpo di scena, sembrava ancora più nero e arrabbiato Mai più, mai più, per sempre mai più Perché tu sei qua e niente mi ferirà Grazie a tutti!